Beh, Loris Capirossi è un grandissimo campione, non ha bisogno che lo presenti o si presenta da solo e il messaggio importante è che è anche un po' una bella responsabilità quando si è famosi per lo sport e campioni nello sport, perché il messaggio che si manda verso i giovani è fondamentale, è un po' lo spirito del Panathlon che qui a Sanremo festeggia 60 anni, Loris. Stasera è una serata importante, infatti si festeggiano i 60 anni e lo sport è vita, perché lo sport ti dà anche educazione, io ho cominciato a fare sport da ragazzino, grazie a Dio lo sport mi ha dato molto, però l'unico segnale che posso dare a tutti i giovani è di fare sport e di divertirsi, di farlo e prenderlo sempre come gioco, perché ci sono tante cose importanti e come ho detto lo sport fa crescere, quindi sport a tutti, divertitevi. Nel modo migliore, nel modo più sano e bisogna dirlo anche ai genitori che molte volte sono ancora più scatenati dei figli, Loris. Il problema sono proprio i genitori che in tante occasioni, in tanti sport incitano troppo i figli, come ho detto prima lo sport è molto molto importante, però bisogna farlo divertendosi, nel momento che tu lo fai realmente divertendoti puoi raggiungere risultati importanti, se lo fai obbligato da altri non è più bello come lo sport è. Giorgio Di Centa, pluricampione, un impionico di sci a festeggiare qui sul mare, oggi è una particolarità, ma lo sport vuol dire anche questo, vuol dire una fratellanza che non ha confini, per esempio fra il mare e i monti e fra discipline sportive. Ma sì, assolutamente, è proprio un ottimo binomio e sono felice di questo invito, di essere qui come testimonial assieme a Caperossi della serata. Per me è qui la prima volta, in questi luoghi vicino ad Impere, perché io spesso vengo degli amici ad Impere, vengo ad Impere, però qui è la prima volta. Questo ci fa molto piacere comunque perché ci sia questo legame fra un grande campione e anche questo territorio, Imperia è capoluogo in modo particolare, anche perché i campioni devono essere simbolo di quello che poi è lo spirito del panatron, cioè dello sport, quello più puro, quello più vero. Sì, è assolutamente vero e va promosso lo sport soprattutto a livello giovanile, dobbiamo portarlo di più fortemente nelle scuole perché è da lì che deve partire per poi tirare dentro i ragazzi nella società.